Prendete una spugnetta ma niente paura non laveremo i piatti Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video utile, utile, divertente e creativo come fare un pensierino di Pasqua spendendo veramente pochissimi centesimi e creando qualcosa che possa essere riutilizzato nella vita di tutti i giorni Oggi con una spugnetta per i piatti, vi faccio vedere anche qual è sono le acquapur della Lidl, 4 spugnette costano meno di 50 centesimi per intenderci faremo una spugnetta sempre per i piatti, per lavare i piatti a forma di pulcino e queste spugnette potranno fungere sia da segnaposta Pasqua che da pensierino o da donare magari corredate da un piccolo vetto di Pasqua e saranno comunque dei pensierini riutilizzabili nella loro funzione di spugnetta per i piatti. Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come si fa Ed ecco l'occorrente per creare il nostro pulcino con la spugnetta per i piatti Allora, innanzitutto la spugnetta per i piatti che vi ho fatto vedere prima Se non trovate queste vanno bene qualsiasi spugnetta tanto la sagoma del pulcino potrete trovarla sulla pagina Facebook di Arte per Te e così potrete facilmente ricavarvela anche se non avete questa spugnetta ad onda Un paio di forbici Un filo anche di cotone semplice arancione Io lo avevo questo più spesso quindi ovviamente lo uso Utilizzate solo ciò che avete in casa Un filo di cotone nero Un ago, io ne ho preso uno che vada bene per entrambi i due fili quindi con la capocchia un po' più larga Una matita Questo è l'occorrente base per il pulcino Poi se volete fare una cosa deluxe, tra virgolette servirà anche una spugnetta bagnasciuga anche questa l'ho presa alla Lidl del colore che più desiderate Io avevo questa in casa Un laccetto che si accordi con la spugnetta e questo servirà sia per il pulcino che per la spugnetta Quindi un campanellino se lo trovate in giro lo vendono veramente anche a 5 centesimi nelle cartolerie in questo periodo Poi un tag Io userò questo per fioristi della Tiger ma potrete costruirvelo anche in cartoncino Allora prendete le due spugnette allargatele e posizionate una spugnetta a 2 cm circa dall'inizio della parte convessa dell'altra spugnetta Così Vedete? Automaticamente si formerà la sagoma di un pulcino Ora voi non badate a questo, ok? Guardate solamente la parte di sopra Con la matita ricalcate il pulcino che viene fuori Adesso poggiamo la nostra spugnetta così e ricalchiamo questa parte in modo che il pulcino poi termini esattamente come la spugnetta Voilà Il nostro pulcino è bello e disegnato Adesso ritagliamo il tutto E voilà Il gioco è fatto Il nostro pulcino è venuto fuori Se le zampettine vi sembrano troppo lunghe tagliatele un pochino Volendo quello che sto cucendo potete anche farlo con dei colori Ovviamente cucito durerà per sempre Mentre con i colori al primo lavaggio andrà via il colore che avrete usato Adesso con il filo dobbiamo ricavare questa porzione Quindi entro dal basso entro dal basso ed esco dall'alto così e poi di volta in volta faccio sempre questo filo questo filo fino a quando faccio passare sempre questo filo arrotolandolo fino a quando tutta la porzione non sarà coperta guardate non metto nemmeno alla fine il il nodino perché sennò mal si nasconderebbe e quindi di nuovo uno accanto all'altro ripasso e faccio uscire proprio quasi accanto a dove era prima arrivati all'ultimo piccolissimo punto a me sono bastati vedete solo quattro giri e voilà il becco del pulcino è fatto adesso qui sempre con lo stesso ago ma con un filo più sottile facciamo un bell'occhietto adesso faccio un bel nodino col dito e piano piano lo poggio sul pulcino e lo fisso con l'ago così passando da una parte all'altra voilà tiro molto dopodiché sgancio il punto e lo faccio ritornare dentro ma la parte del nodo invece rimarrà fissata visto così allora filo arancione cosa faccio adesso avvolgo le mie zampine e quindi come prima proprio dall'inizio così seguo prima l'andamento della curva del pulcino a questo punto prendiamo il rimasuglio che avevamo tolto da qua e con questo facciamo l'aletta al nostro pulcino come? così facendo una curvetta qua sopra vi faccio vedere così visto? ma questa è troppo spessa non posso metterla qua sopra starebbe troppo grande e allora cosa faccio stacco semplicemente una parte della spugnetta che è fatta da tre parti e con un taglio a balza semplicemente la stacco quindi vado ad attaccarla sempre con un ago e un po' di filo qui al centro oh molto molto carino ora il nostro pulcino può finire così se vogliamo un modello basic in cui veramente non abbiamo speso nulla se invece vogliamo albellirlo leggermente di più prendiamo il nostro laccetto prendiamo la nostra campanella e avvolgiamola attorno al collo del nostro pulcino adesso se vogliamo questo può essere il regalino completo è veramente un amore però però se volessimo potremmo fare qualcosina di più ci basterebbe avere una spugnettina bagnasciuga piegarla a metà quindi di nuovo a metà e qui creare la sagoma di mezzo uovo così ok ok adesso con le forbici ritagliamo questo mezzo uovo quello che avremo sarà questo di questo metà dovremo eliminarlo però cosa facciamo io faccio un taglio molto alto così e poi sfrangio a zig zag a mo' di uovo rotto fatto questo prendiamo il filo arancione eccolo qua e impunturiamo tutto attorno qui possiamo andare o di punto festone vi lascio nel link il video in cui lo fa vi insegno come si fa oppure semplicemente impunturando guardate a cordoncino così che è molto più semplice e sbrigativo l'importante è essere ordinati e distanziare sempre allo stesso modo i punti adesso con il nastro sempre arancione faccio un fiocchetto semplice semplice semplicemente arrotolando tra le dita il cotone così e questo potete tranquillamente farlo anche con un normale cotone da spagnoletta per cucire quindi passo il nastrino in mezzo alle dita così lo sfilo dalle dita e chiudo il nodino allargo le orecchiette del fiocchetto e lo cucio qui al centro e poi adesso il marker con un pennarello nero scrivete semplicemente o pasqua 2016 oppure buona pasqua pulcino dentro alloggiamento voilà e tag dietro o anche potete scrivere il nome del commensale se lo userete come segnaposto ora ditemi ora ditemi se non è troppo troppo carino io spero che questa idea veramente low cost sia utile per qualcuno di voi spero che diverta molti di voi vi auguro una buona pasqua indipendentemente da quanti soldi abbiamo in tasca ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo questo periodo è un periodo bello i periodi di festa sono sempre periodi stupendi per molte persone ma sono anche periodi di grande prova per altre per le persone che non sono fortunate che non hanno l'in più da spendere in cadeau e allora spero di aver dato un'idea veramente low cost e soprattutto un'idea che possa essere utile nella riutilizzazione di un oggetto che comunque rimane di per sé utile piena di amore per chi destina il dono la persona che lo riceve che riceve una semplice spugnetta trasformata in pulcino in una persona che nel momento in cui si accingerà a lavare i piatti lo farà con un sorriso perché anche un gesto fastidioso come lavare i piatti può diventare qualcosa di bello se allietato dall'amore vivete le feste così e vedete la creatività così non siate schiavi sempre del consumismo ma sappiate che l'unica cosa necessaria per vivere le feste a pieno è il sorriso tutto il resto viene da sé e se posso fornirvi qualche soluzione pratica e creativa per abbellire la vostra tavola perché potete usarlo anche come segna posto e per far sì che un pensierino non rimanga chiuso in un cassetto ma venga riutilizzato e sfruttato fino alla fine io sono ben lieta di farlo bene se questo video pensate possa essere utile regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine facebook questo aiuterà invece arte per te a rimanere a galla in questo tempestoso mare di youtube è sempre più difficile rimanere in evidenza solo voi potete aiutare tramite commenti pollici in su e le condivisioni è solo per questo che ve lo chiedo non perché voglia un riscontro per forza da voi è solo un aiuto che vi chiedo con il cuore un unico modo che ho per ricambiare questo affetto è sfornare video che pensino a voi con un occhio attento a chi mi segue e spero di farlo sempre io vi aspetto anche sui miei altri canali sempre a braccia aperte su ombretta e su 2Q1K il link tra le schede informative è nel box informazioni e vi aspetto sempre qui per un prossimo video magari sempre dedicato alla Pasqua da ombretta ed arte per te è tutto alla prossima ciao buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua